È arrivato Cicero Lectio, il tutor online che ti aiuta nell'analisi dei testi di letteratura latina. Cicero Lectio ti presenta il brano e te lo contestualizza. Poi ti segue passo passo nell'analisi e nella comprensione con vari tipi di domande. Cicero Lectio ti dice sempre se rispondi bene. E se invece sbagli, ti aiuta, così non rimani bloccato. In questo modo puoi scrivere la tua analisi del brano letterario. E quando hai finito, puoi stamparla o inviarla all'insegnante. Buon lavoro con Cicero Lectio, il tutor per l'analisi dei testi latini. Zanichelli, idee per insegnare, idee per imparare.